Sopra Imperia c'è una villa molto particolare, è Villa Grock, una villa fatta costruire da Charles Adrian Wettach, vissuto tra il 1880 e il 1859, clown di fama mondiale, noto come Grock appunto. Originariamente nota come Villa Bianca, si trova, come ho detto, a Imperia, Oneglia e fu residenza della famiglia di Grock nella prima metà del XX secolo. Nel 2013, all'interno di Villa Grock, fu inaugurato e aperto al pubblico anche il Museo dei Clown, che è un museo interattivo alla scoperta del mondo circiense. Grock, che grazie ai suoceri conobbe Imperia, acquistò un appezzamento di terreno in collina, approssimativamente triangolare, con vista sul mare, su cui edificò la villa nel 1927. Villa Grock è un piccolo gioiello sulle colline imperiesi, abitata negli anni 1930-1960 proprio dal celebre clown. Per la costruzione della villa, l'artista scelse l'ingegnere Armando Brignole, ma fu su ispirazione dello stesso Grock, che il complesso assunse le sue forme bizzarre ed eclettiche, fino a trasformarsi in un vero e proprio circo di pietra. La casa e i giardini sono caratterizzati dal gusto personale dell'artista, infatti, con un particolare accento art deco, ma mostrano anche influenze liberti, orientali e storicistiche. Il giardino è costituito da un grande parco, che ospita invenzioni stilistiche e decorative cariche di simbolismi circensi ed esoterici, oltre a un suggestivo laghetto con gloriette e ponticello. In parte conservata, la flora dell'affascinante parco, che era stato dotato di installazioni idrauliche all'avanguardia, consisteva in cedri del Libano, abeti, cicas, magnoli e palme, olivi e fiori a profusione. Ancora oggi, esso presenta, dominato da un elegante peschiera, al centro della quale si trova un'isoletta raggiungibile, tramite un ponticello sorretto da un arco a sesto ribassato, sul quale poggia un tempietto dal sapore esotico con colonne affuso, che in qualche modo ci trasporta in una dimensione favolistico-claunesca. Spesso l'effigie stessa di Grock spunta con bonomia ironica dall'architettura, sorprendendo il visitatore. Appena si varca il grande cancello principale, ci si trova immersi in un'atmosfera da mondo delle meraviglie, abbracciati da un'esplosione di elementi architettonici originali e imponenti. È quasi impossibile non restare col fiato sospeso, come se lo stesso Grock venisse incontro ai visitatori presentando, l'uno dopo l'altro, i suoi numeri di acrobazia.